Buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Antropos che questa sera dedicheremo alle periferie, l'anima fragile della città ma nel contempo anche il fulcro del futuro di ogni città. Ne parleremo perché già tempo fa l'avamo affrontato e è partito da tempo un progetto molto interessante che si chiama proprio Rammendo delle periferie ad opera dell'archistar Renzo Piano. Renzo Piano ha impiegato moltissimo entusiasmo, passione e risorse in questo progetto che ha chiamato attorno a sé sei giovani architetti proprio per poter cominciare un lavoro di ascolto, di attenzione e di rigenerazione urbana a partire dalle periferie delle grandi città. Tra le città che sono state coinvolte in Italia la prima, il punto di partenza è stata proprio Torino. Ne abbiamo parlato tempo fa, ne riparleremo questa sera perché il Premier Renzi in questo periodo ha disposto nuovi fondi a sostegno di questo progetto che dovrebbero essere circa 400-500 mila euro nell'arco di due anni, milioni, milioni nell'arco di due anni. Dunque si tratta di un progetto di cui si parla moltissimo, con pareri favorevoli e anche con critiche. E' stato presentato all'allora Presidente della Repubblica Napolitano, al Presidente del Senato Grasso, è stato oggetto di discussione anche con Barack Obama. Allora, noi siamo in compagnia questa sera dell'assessore Ilda Curti che a Torino ha tante deleghe, tra queste anche le deleghe alle politiche giovanili e alla rigenerazione urbana. E' lei che ha seguito questo progetto, che sta seguendo questo progetto con il gruppo, il G124, il gruppo dei giovani architetti di Renzo Piano. Quindi, ben arrivata, assessore. Faremo un aggiornamento di quello che è stato fatto. Bene, riappropriazione dello spazio pubblico da parte dei cittadini attraverso un'operazione di vero e proprio rammendo delle periferie. Perché la periferia non diventi una crescita esplosiva della città fino a perdere il contatto con il centro. Senta, allora, questo è lo spirito del progetto. Però, lei ha incontrato Renzo Piano a Roma, ci ha parlato, è stata coinvolta per quanto riguarda Torino. Quindi, ha visto negli occhi di Renzo Piano questa passione, questo fuoco. Come è nata l'idea di Renzo Piano? Beh, questo ovviamente lo chiediamo a Renzo Piano. Però, devo dire che lui rappresenta, rispetto al mondo delle archistar, prima lei l'ha definito giustamente un archistar, rappresenta un'anomalia. Un'anomalia che io apprezzo particolarmente perché ha messo a disposizione, in modo anche molto umile e molto appassionato, la sua robustissima esperienza di persona che ha ridisegnato pezzi di città in giro per il mondo e in Italia, l'ha messa a disposizione anche con una felice intuizione, cioè quella di promuovere lo sguardo di giovani architetti. I sei giovani architetti che hanno lavorato nella prima fase adesso sono stati sostituiti per altre cittadali. Quindi, diciamo, è una sorta di mentore che mette a disposizione il suo know-how, la sua competenza, anche per far crescere una nuova generazione di architetti e di esperti di riqualificazione urbana. E quindi questo io credo che sia intanto, al di là del fatto che il progetto di Renzo Piano è stato anche criticato, ma credo che sia importante sottolineare il fatto che nella nostra società manca molto lo scambio intergenerazionale, diciamo, il mastro di bottega che mette a disposizione il suo sapere per i giovani apprendisti. E invece ne abbiamo un grandissimo bisogno. Allora, prima di affrontare questo aspetto, bisogna partire dal presupposto che, da quello che ho sentito nelle sue interviste, lui è stato mostro dallo stesso spirito, tanto per capirci, che ha portato il maestro Abado a fare la stessa esperienza con la musica in Sud America, con il metodo Abreu. Cioè, Abado ha lavorato per portare via giovani ragazzi in balia del loro futuro, del loro destino, senza nessun futuro davanti dalla periferia molto difficile di Rio, o dei paesi più difficili, per inserirli attraverso la musica in un'orchestra e riportarli alla vita e al mondo proprio attraverso la musica. Quindi questo è lo stesso spirito. Assolutamente. Creare una nuova generazione, per esempio, di architetti che abbiano anche un'etica, non solo urbanistica, ma anche un'etica sociale. Certo. Anche un'etica... Certo. Questo, tant'è che mi sembra che il senatore abbia messo a disposizione anche il suo stipendio di senatore. Ha messo a disposizione il suo stipendio, sì. Di senatore. Sì, di senatore per sostenere il lavoro dei ragazzi, dei giovani. Qualcuno potrebbe dire facile, diciamo, ha delle grandissime perciò... Non facessero altri. Però effettivamente, effettivamente si tratta di un gesto che culturalmente dà un segno molto importante. Lei ha la delega alle periferie, alla rigenerazione urbana, quindi che cosa vuol dire e in che modo si può intervenire nelle nostre periferie perché non si perda completamente il controllo? Allora, intanto partiamo da un punto. Le nostre città sono città che già esistono. Spesso, diciamo, il dibattito italiano sulle periferie si concentra quasi esclusivamente sul bello e sul brutto, sul non facciamone altre o facciamole più belle. Quando invece si tratta di intervenire in luoghi, in quartieri, in territori urbani che già esistono, che sono abitati, che vedono un sistema di relazioni sociali tra chi ci abita e quindi questa discussione che spesso avviene da parte di chi passa in macchina nei luoghi e li vede esclusivamente dal finestrino dell'automobile, non tiene conto, o del turismo, insomma, il turismo di periferia. C'è un'interessante citazione di uno scrittore che parla di periferite. La periferite è quella malattia che hanno gli architetti quando vogliono vedere il brutto e quindi vanno a guardare il brutto per riuscire ad appagarsi del fatto che fanno dei bei disegni. Ecco, noi non vogliamo essere ammalati di periferite, le periferie sono luoghi dove le persone abitano, vivono, consumano, si conoscono, si innamorano, si sposano, fanno vivere i loro figli. Quindi intanto però noi abbiamo, noi Europa, noi città amministratori di città europee e italiane, abbiamo un problema grande come una casa. Vale a dire noi abbiamo la responsabilità di intervenire nelle città già costruite e nelle città che ci ha consegnato la storia del Novecento. La storia del Novecento ci ha consegnato città che sono state costruite, pezzi di città che sono stati costruiti in fretta, spesso malamente, perché il processo di urbanizzazione dopo la Seconda Guerra Mondiale ha fatto sì che fosse necessario dare casa in fretta e quindi la situazione storica, il disegno urbano è stato un disegno affrettato, insomma si mettevano in piedi case in fretta, si facevano scuole, io appartengo a una generazione di doppi turni, siamo i baby boomer, eravamo tantissimi da bambini e allora bisognava costruire le scuole in fretta, scuole che oggi sono delle ammaccate cinquantenni, molto più ammaccate di noi, perché in realtà sono state costruite senza un disegno, ma semplicemente dovevano ospitare bambini e così via, quindi la città del Novecento è una città che è stata usata e anche massacrata dall'uso industriale che è stato fatto della città, se noi pensiamo soltanto alla nostra città, ai vuoti urbani, alle aree industriali dismesse che sono dentro il confine della città, è stato negli anni 60, 50, 60 tombato un pezzo di fiume, di Dora, che è stato sotterrato perché la fabbrica aveva bisogno di spazio, quindi noi ereditiamo questo, noi ereditiamo questo, quindi noi non abbiamo, diciamo, noi la mia generazione, noi adesso che abbiamo la responsabilità di intervenire sulle città, non stiamo immaginando una città sul foglio bianco da costruire, quanto piuttosto abbiamo la necessità, la responsabilità di intervenire in pezzi di città ammaccati. Le risorse sarebbero colossali, già solo Torino, penso a questo, i suoi 10 mila metri quadri di aree industriali dismesse, è riuscita a intervenire, riqualificare, ristituire... Sono fatto un lavoro pazzesco. ...su 7 milioni di metri quadri, attraverso fondi europei, il piano regolatore, la stagione della trasformazione urbana di questi 20 anni che ci portiamo dietro. Lei stava raccontando e si era affermata, diciamo, una distinzione molto importante, parlando di periferie, di luoghi così, diciamo, diversi tra di loro, in cui appunto spiegava che sono luoghi dove la popolazione è suddivisa, soprattutto fra le due estremi italiane, la popolazione giovanissima e la popolazione più anziana, popolazione nuova e popolazione più autoctona. Quindi quali sono... Non solo, non è solo questo, è la parte della città, per esempio, con i tassi di scolarizzazione più bassi, è la parte di città, la zona nord, con il più alto numero di case popolari, ma perché negli anni 60-70 sono state costruite qua, intorno alle fabbriche. Questo ovviamente... Aveva un senso questa cosa. Sì, sì, infatti io non do un giudizio, dico soltanto però che poi questo è il contesto nel quale ci si deve intervenire, capendo anche, e io questo l'ho imparato facendo questo mestiere, perché appunto faccio l'assessore da dieci anni, ma questo mestiere l'ho fatto per molto tempo da tecnica, ho imparato che in questi posti bisogna arrivare con le scarpe comode e con uno sguardo che sta sul marciapiede, perché io provo sempre un certo fastidio quando si parla di periferie brutte, perché vuol dire che si pensa che anche le persone che ci abitano sono brutte e invece poi le periferie, questi luoghi sono dei luoghi di... diciamo con tutte le loro contraddizioni, difficoltà, fatiche, che conosco bene, però sono dei luoghi dove si impara a vivere insieme, dove ci si confronta, cioè sono anche dei luoghi che esprimono delle creatività straordinarie. Senti, allora, però, tornando all'intervento che è stato fatto a Torino, parlavamo di questa zona, quindi quella intorno, quindi delimitandola, la zona che è stata scelta, qual è stata? Tra Falchere o no? No, 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 la zona dell'intervento di piano è tra Borgo Vittoria e Madonna di Campagna, quindi nella circoscrizione 5. Ecco, nella prima fase di questo progetto, che continuerà però, perché se ci sono nuovi stanziamenti, noi staremo ancora dentro, giusto? Come Torino. No, noi stiamo lavorando alla presentazione di un progetto, adesso stiamo aspettando che esca, adesso ci sono già bozze di bando, è stato pubblicato, insomma, le tempistiche dovrebbero essere i prossimi mesi, nel senso che dovrebbe essere la scadenza verso fine marzo, fine aprile, adesso non è ancora chiaro, e noi stiamo già lavorando, ma anche perché la taglia dei progetti previsti da questo stanziamento è significativa, cioè una cosa è progettare un intervento da 50 mila euro, un'altra è un progetto da 30-40 milioni, e quindi stiamo già, insomma, si sta già lavorando a questo. Senta, allora, veniamo, dicevo, a qualche critica, allora, qualche urbanista sostiene, diceva, allora, intanto, io le dico quali possono essere le cose che si dicono in giro, questo progetto è indiscutibilmente apprezzabile, ovviamente è un intervento soprattutto culturale, sulla popolazione, sulla popolazione degli urbanisti, sulle nuove generazioni di urbanisti, quindi su questo non discute nessuno, è un intervento di generazione urbana, però poi l'urbanista dice, sì, ma i veri interventi non avvengono così, dice, però c'è anche un altro problema, ciò che sembra effettivamente molto, nella fase della progettazione, molto accessibile, molto facile, tipo per esempio fare l'ascolto dal basso, muoversi un po' liberamente, sembra quasi che esista una traccia un po' libera, di fatto, credo che riguardo, si traduca tutto nel bando, poi a cui si partecipa, in un algoritmo molto stringente, molto rigido, allora, l'urbanista dice, se però questa bella esperienza libera, di pensiero libero, io poi la devo far rientrare in un algoritmo molto complesso, che mi chiede di tener conto di un dato, di tener conto dell'altro, viene fuori, potrebbe venire fuori l'individuazione di una zona che per esempio, al di là di questo concetto, diciamo di questo aspetto concettuale del progetto di piano, va a individuare una zona che magari non ha per niente bisogno di questo intervento qui, cioè non individua la zona giusta, ma ne individua un'altra, è vero? Diciamo, c'è questo rischio, ma è il rischio che c'è nel momento in cui si danno degli indicatori, e gli indicatori stringono, diciamo la combinazione di due cose, da un lato gli indicatori, dall'altro un'altra roba, la dico, però sembra una parolaccia, si chiama l'elegibilità della spesa, nel senso, sembra una parolaccia, però è il nostro mestiere, è il mio mestiere, l'elegibilità della spesa è un vincolo, cioè non tutto è finanziabile. La cantierabilità che cos'è? È una garanzia che chi ti dà dei soldi, Europa o governo, chiede alle amministrazioni locali, cioè non mi fare il libro dei sogni, dove mi metti che vuoi dipingere la luna d'argento e poi però io so, poi non si può, non si sa le procedure, questo e quell'altro. Tu mi devi dare dei progetti che siano cantierabili, cioè che siano a uno stato di progettazione sufficiente, però il concetto è giusto, che siano a una progettazione sufficiente, per cui io so che nel giro di due, tre, e cinque anni sarai in grado di farlo, però questo che cosa provoca a certe volte? Perché le amministrazioni pubbliche non possono fare progetti se non hanno i finanziamenti, cioè non è che noi nel cassetto abbiamo progetti definitivi che possiamo dare dicendo guarda che poi domani partono, per cui il rischio anche lì è di mortificare la qualità dei progetti con l'ossessione della cantierabilità, no? Cioè ti do quello che riesco a fare di sicuro, ma magari non quello che mi serve di più. Certo, bene. Assessore, noi siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, la ringrazio tantissimo perché a questo progetto, come lei sa, io ci tengo tanto, mi sta a cuore, come sta a cuore la nostra redazione, quindi ci rivedremo tra un po'. Sì, così vedremo, insomma, gli sviluppi. Prima di giugno. Prima di giugno. Le faccio tutti i miei bocca al lupo e a tutti voi, ovviamente, che avete seguito, do il mio ringraziamento lasciando, come di consueto, la parola a Giorgio Deferia. Buonasera.